si vede anche la presentazione per cui puoi partire perfetto allora dico che sono molto contento di essere qui in questo ambiente pur virtuale ma molto familiare lo sento dalle conversazioni e sono anche lieto che di aver avuto la possibilità di partecipare quindi vi ringrazio perché avete fatto sulla fiducia non ci conosciamo e chi accoglie nella propria casa quella di rinascita digitale un estraneo fa sicuramente un atto meritorio io partirei subito da quello che è l'obiettivo che ho oggi nella giornata di oggi ecco io mi chiamo antonio sono responsabile marketing e id of digital di the digital box una pmi innovativa nata sette anni fa con un obiettivo specifico che era quello di esplorare il mondo del mobile del mobile marketing e come tante altre realtà poi è cambiato un po veste e oggi è concentrata e focalizzata sullo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale in modo particolare per quello del progetto di cui vi parlerò oggi nel mondo del marketing e della comunicazione siamo partiti in poche persone oggi siamo una discreto numero di diciamo di collaboratori segno che questo è un settore in forte crescita qual è il tema qual è l'aspetto che oggi vorremmo trattare con voi e in realtà il racconto di una storia il racconto di una visione ma anche chiaramente di un'esplorazione di tre mondi quelli del mobile del social dell'intelligenza artificiale che secondo noi rappresentano una strada nuova possono rappresentare una strada nuova si approcciati in un modo che è fruttuoso per andare ad applicare per andare a sviluppare delle strategie di marketing digitale leggermente come dire diverse o in qualche modo innovative rispetto a quelle tradizionali questa è una slide che mi è molto che è molto chiara perché quando rifletto su me stesso su quello che faccio sugli anni che ho dedicato a capire qualcosa del mondo digitale poi mi rendo conto di essere in un contesto molto turbolento e questa immagine lo rappresenta molto turbolento per diversi aspetti uno può essere questo oggi gli uomini di marketing e comunicazione chi si occupa di marketing e comunicazione soffre di quello che si chiama stack tecnologico lo stack tecnologico indica che pur essendo uomini di comunicazione oggi dipendiamo molto dalla tecnologia questa è una slide abbastanza famosa di un'analisi che riguarda il mondo delle martech e e viene fuori che ci sono oltre 7 mila e 40 piattaforma che consentono all'uomo di marketing di fare parte dell'attività quotidiana nella quale impegnato e però si sa che non sempre l'abbondanza è sinonimo di una giusta 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 scelta perché bisogna capire qual è il tool più confacente bisogna avere account bisogna probabilmente averne più di uno e poi quando abbiamo quando pensiamo di aver compreso degli aspetti degli aspetti tecnici del nostro lavoro ci sono cose che cambiano repentinamente da qui la turbolenza il credo fine dello scorso anno facebook per prima ha dovuto introdurre questo tasto clear history che immagino conosciate che consente a chiunque dalle proprie impostazioni del profilo di facebook di rimuovere tutte quante le notizie i dati le informazioni che riguardano la navigazione al di fuori di facebook questo potete capire che se rispetta chiaramente i diritti dell'utente crea grande difficoltà nel momento in cui noi pianifichiamo delle campagne che sono legate al facebook pixel e che sono legate al concetto di retargeting altro aspetto di cui si parla sempre più spesso la strategia che google sta adottando da motore di ricerca giardino recintato sapete che con lo sviluppo di google my business google sta portando avanti avanti una logica di zero click search che cosa significa significa che arricchisce sempre di più le informazioni ad esempio sulle piccole e medie attività commerciali con la scheda my google business con un obiettivo specifico evitare che ci siano clic in uscita questo che cosa mette a dura prova delle degli aspetti delle strategie che abbiamo imparato l'utilizzo delle landing page o l'utilizzo di contenuti esterni rispetto a quello che è diciamo il la ricerca che l'utente fa quindi punti fondamentali della strategia di marketing digitale su cui basiamo gran parte del nostro lavoro possono cambiare per dei rivolgimenti che a volte non dipendono chiaramente dalle nostre scelte e sembra che sia diventato un pochino più complesso fare l'attività di marketing digitale quando in realtà il suo obiettivo non è cambiato nel tempo gli americani lo descrivono in maniera splendida con una parola che engage quindi to engagement quindi creare sviluppare nel tempo delle relazioni con il pubblico di riferimento al fine di trasformarli da quando sono sconosciuti a quando diventano ambasciatori del brand se nel tempo non è mai cambiato il ruolo del marketing ed il marketing laddove è legato alla creazione al mantenimento nel tempo di una relazione e espressione del fatto che una relazione si mantiene sulla comunicazione una comunicazione è basata sulle conversazioni si può addirittura tornare indietro nel tempo al 1999 quando clu 3 manifesto al prima la prima tesi di culta il manifesto evidenziava l'importanza delle conversazioni tra marche e persone in un'era che sarebbe stata cambiata dal digitale e da internet quindi le conversazioni diventano nuovamente centrale nel rapporto tra marche e persone e come ci dice il buon set godin la conversazione stessa oggi è una conversazione prevalentemente digitale prevalentemente legata alla capacità delle marche di sapersi raccontare sempre però in qualche modo legata alla sostanza al frutto al risultato che bisogna generare la rich l'engagement e le conversioni rimangono parte fondamentale del ruolo e dell'attività che svolgiamo il fatto è che però se noi guardassimo oggi il mondo digitale con oggettività con trasparenza con tranquillità ci sono tre elementi che sembrano emergere in maniera particolare e verso le quali c'è una convergenza tra parentesi convergenza un termine veramente molto bello è come se si semplificasse ciò che è complesso perché convergere significa andare in un punto specifico andare mirati a qualcosa e questo quel qualcosa in questo momento è rappresentato sicuramente dallo smartphone che centrale rispetto a determinate logiche come canale contenuto come luogo delle nuove relazioni social e come amplificatore sviluppato attraverso l'intelligenza artificiale le conversazioni linguaggio naturale per accertarci che questa non è soltanto come dire un pensiero non è soltanto intuizione ma è effettivamente realtà andiamo a guardare qualche informazione di scenario che cosa ci dice lo scenario ma novembre 2016 il mobile diventa il primo punto di con lo smartphone e quindi il mobile diventa il primo punto di contatto tra persone e marche questa la considero la mia seconda carta d'identità perché da quel momento in poi non si è più tornato indietro oggi tra il 70 e l'80 per cento delle persone italiane in italia utilizza lo smartphone come punto di accesso come punto primo punto di contatto con le marche guardate anche i dati questa fonte audi web su una total digital audience del quad di 43,3 milioni di persone la stragrande maggioranza utilizza un dispositivo che non è più il pc l'era desktop è ormai un'era terminata va avanti si afferma il concetto che se il dispositivo preferito delle persone è un dispositivo mobile la conversazione deve andare verso il dispositivo preferito dalle persone e questo in qualche modo è confermato anche da google google nelle più due recenti più importanti e recenti innovazioni che ha introdotto marzo 2019 e l'altra è di un credo un paio di anni questo qui delle google mp dopo ci torniamo parla specificamente nell'innovazione stessa della parola mobile marzo 2019 rende effettivo il google mobile first indexing cambia il suo algoritmo di ricerca delle informazioni orientando le maniera specifica ad un contenuto che mobile il ragionamento è abbastanza semplice se la maggioranza delle persone preferisce utilizzare un dispositivo che non è più un pc a quelle persone noi dobbiamo dare il miglior contenuto quello che è maggiormente fruibile dal dal dispositivo che preferisce e quindi istruisce il suo algoritmo a privilegiare nelle ricerche dei contenuti nei ricerche del nei risultati di ricerca scusatemi quei contenuti che sono pensati specificamente per il mobile allo stesso tempo una delle altre variabili che impatta fortemente nel concetto di nuove modalità di navigazione web e la velocità la velocità può essere una discriminante molto forte nella confluizione di un contenuto di una marca per questo google un paio di anni fa ha lanciato a come dire coniato questo questa terminologia se le reti mobile pages facendolo diventare un framework di sviluppo un html open source aperta che garantisce la possibilità di realizzare delle pagine web totalmente orientate alla mobile e soprattutto super veloci quindi velocità e fruizione del contenuto diventano degli strumenti fondamentali nelle strategie di contenuti che devono specificamente passare per il mobile altro aspetto i social sono oggi un mondo in cui si accede da mobile non c'è dubbio basta guardare questa statistica ci dice che oltre 3 miliardi degli utenti attivi sui social di questi 3 miliardi utenti attivi sui social oltre il 93 per cento accede da un dispositivo mobile questa è una fonte we are social e c'è un'altra slide che a me piace molto e che da indicazione di quello che è un aspetto fondamentale di come anche i social vanno di pari passo a questa evoluzione del mobile guardate questa statistica questi sono i dati a costruttivo dell'anno fiscale 2018 di facebook che ha sviluppato 5 oltre 55 miliardi di ricavi legati all'advertising quindi legata allo strumento ads a 360 gradi facebook instagram e il dato importante innanzitutto che c'è stata una crescita del più 38 per cento rispetto al precedente anni io ho guardato un po la somma delle ricavi per q e quest'anno si stima un ulteriore crescita perché si pensa che possa arrivare a 70 miliardi di raccolta pubblicitaria il dato interessante che oltre il 93 per cento di questi cavi provengono da pianificazioni in ottica mobile ciò significa che noi per primi marketer sappiamo che le persone sono sui social sono sui social da mobile dal resto facebook ha creato un ecosistema mobile un sistema integrato in cui convivono più anime ma che ormai un continente si passa dai 2 miliardi e 4 di utenti connessi su facebook al miliardo e 5 che utilizza whatsapp a miliardo e tre su messenger e al miliardo su instagram si apre però un altro fronte una nuova frontiera quelle delle conversazioni alle persone piace conversare questa slide dice in maniera specifica che noi preferiamo le app di messaggistica piuttosto che i social stessi è una slide abbastanza famosa abbiamo la tendenza non solo di consultare i social per vedere che cosa fanno la i nostri amici o gli amici della nostra rete ma vogliamo entrare in contatto con loro l'attitudine quindi a scambiare informazioni a conversare a trattenere dei dialoghi digitali sta sempre più crescendo questa è una fonte facebook iq le conversazioni digitali sono in aumento oltre 2 miliardi sono i messaggi scambiati tra persone brand ogni mese quindi i brand e le marche si sono inserite in questo flusso di conversazioni e questo ha generato un ritorno di interesse per le conversazioni in linguaggio naturale cioè le conversazioni fatte dalle macchine con un fenomeno che è quello dei chatbot che ha oltre 50 anni di esistono da oltre 50 anni e questo è avvenuto in un momento specifico nel quale zakenberg ha fatto un ragionamento del tipo noi abbiamo un contenitore che è quello di messenger che molte persone hanno installato nel loro dispositivo e che utilizzano per conversare diamo la possibilità alle marche di essere presenti in questa arena di avere la possibilità di dialogare e di essere di supporto alle persone ha aperto messenger con un progetto che facebook messenger platform e ha consentito attraverso le piai a applicazioni di terze parti di mettere assistenti virtuali quindi di mettere chatbot a supporto delle conversazioni con le persone perché un'azienda una piccola e media attività dovrebbe avvantaggiarsi da un progetto chatbot ultimamente la parola chatbot non ha un buon come dire una buona un buon seguito si dice o si pensa che i chatbot non sono particolarmente funzionali poi vedremo in qualche modo a quali risultati sono legati è vero che noi utilizziamo una parola micro chatbot chatbot molto contestualizzati per quelli che sono gli obiettivi che si prefigge alla strategia di comunicazione però bisogna tener conto e questa statistica lo indica che le persone quindi gli utenti cercano dalle marche alcune come dire particolarità alcune peculiarità per le quali chatbot sembrano particolarmente indicati le persone vogliono servizio 24 ore su 24 da questo punto di vista i chatbots sono instancabili vogliono risposte rapidi a domande semplici perché un altro aspetto il servizio l'attività di supporto di primo livello è basata sul fatto che si risponda in maniera rapida immediata a delle domande che sono delle domande abbastanza semplice forse ripetitivi ripetitive la convenienza sia nell'erogazione del servizio sia nella come dire distribuzione del servizio stesso la facilità di comunicazione mi sembra un po strano che la customer spirit positiva sia soltanto al 18 per cento perché un punto fondamentale del rapporto tra marca e persona le marche oggi devono essere pronte a relazionarsi e pronte a dare supporto assistenza e risposte che le persone si attendono in qualunque momento della giornata si pensa i chatbot come strumenti di supporto di relazione quindi come strumenti di crm in realtà i chatbots sono molto sofisticati per quelle che riguardano delle operazioni di generazione di nuovi contatti di lead generation con delle tecniche che sono quelle denominate conversational form per cui un chatbot è in grado con un flusso di domande e risposte gestito in maniera come dire molto semplice ormai tecnologicamente dall'uomo di marketing un flusso di conversazione che è un po paragonabile ad un fan nel specifico di conversione è possibile sostituire dei forma le quali le persone diventano sempre più allergiche quindi non solo strumento di crm ma anche strumento di generazione di nuovi contatti i chatbot poi che sono chiaramente sfruttabili da dispositivo mobile vanno sempre nell'ottica nell'ordine della della consultazione del mobile hanno alcune caratteristiche fondamentali che li rendono particolarmente interessanti per le strategie di marketing contenuti incrementali quindi una knowledge base che aumenta per effetto di machine learning e dell'apprendimento di queste macchine l'utilizzo di un'analisi semantica il grande valore il grande sforzo oggi almeno per la parte delle conversazioni linguaggio naturale è quella di istruire delle macchine sempre più capaci di comprendere le domande di restituire delle risposte che siano attinenti e utili a quello che le persone vogliono ascoltare la possibilità di utilizzare contenuti multimediali che consente i chatbot di essere un raccoglitore di come dire contatti e relazioni ma anche un luogo da cui possono partire consultazioni rispetto a risorse diverse sfruttando video sfruttando immagini o anche il link contenuti esterni i suggerimenti automatici che sono quei fumetti che guidano in maniera specifica la conversazione immaginate quanto possano essere utili per utilizzare per fare in modo che il messenger sia o la presenza su un messenger dell'azienda della marca sia utile e sia contestuale a quelle che rappresentano le domande svolte o rivolte dal dagli utenti alla capacità di generare reingaggio è possibile con un tasto con un'azione andare push su tutte le persone che hanno conversato nel tempo con il chatbot e la possibilità di portare questa knowledge base che cresce nel tempo su più punti di contatto quindi l'importazione la presenza sul sito web su messenger sulle applicazioni quindi totale flessibilità quando noi parliamo di chatbot non lo facciamo perché abbiamo letto dei libri o perché abbiamo delle ambizioni di poter lavorare in questo settore ma perché è il frutto di un lavoro costante nel tempo ad oggi la nostra piattaforma ad ha rilasciato mille oltre 1600 chatbot per un numero di conversazioni che si aggira intorno ai 4 milioni qui trovate altre statistiche in questo in questa slide ma un aspetto caratteristico che il chatbot è un po una via di mezzo tra la volontà dell'azienda di innovarsi e l'utilità che può avere per l'utente bisogna calibrarli molto bene hanno grandissime potenzialità ma vanno istruite e in maniera specifica se quindi mobile social e chatbot possono essere fatti confluire verso un dispositivo che oggi è lo strumento di marketing preferito dalle persone quindi lo smartphone come è possibile immaginare di realizzare delle strategie che consentano di svolgere di realizzare di mantenere di sviluppare relazioni con le persone attraverso un concetto esperienziale attraverso la con la creazione di interconnessione tra questi strumenti e la creazione di flussi di esperienza la creazione appunto quindi di esperienze non semplici campagne emozionando e coinvolgendo puntando quindi su un contenuto su cui contenuto che è quello che le persone desiderano guardare voi sapete la storia delle stories la storia delle stories è un escalation incredibile in cui nel 2011 ideate dal fondatore di snapchat che zakenberg ha corteggiato per lungo tempo perché voleva acquisire questa realtà quest'app in qualche modo non c'è riuscito ha fatto lo stesso lavoro su instagram quindi introdotta nel 2016 visto il grandissimo risultato le ha poi portate né in facebook a partire dal 2018 e il potere delle storie è un potere che indica come una semplice innovazione che è un'innovazione legata ad un contenuto immersivo un contenuto full screen oggi siamo nell'era della verticalità se parliamo di crescente utilizzo dello smartphone andiamo anche nella direzione del fatto che le persone fuiscono di contenuti in verticale e se il contenuto in verticale noi dobbiamo cercare di riempire lo schermo nel miglior modo possibile con delle informazioni che sono visive e testuali che uniscono la parte visiva testuale o anche con video perché questo riduce la soglia di disattenzione delle persone e le porta in un percorso di comunicazione molto affascinante fatto è che instagram da quando ha introdotto le stories ha segnato una come dire raddoppio degli utenti medi mensili che sono passati da 250 milioni nel 2017 al 2019 e questa è una storia abbastanza nota noi siamo degli animali visivi come persone ricordiamo il 20 per cento di quello che leggiamo e l'ottanta per cento di quello che vediamo quindi non soltanto più un contenuto a un contenuto che diventa sempre più visivo ed un contenuto che si avvicina sempre più al racconto attraverso quella che la tecnica appunto del visual storytelling e questa storia piace molto ai business piace molto alle marche in questa slide fonte o suite indica come le marche stanno cercando di cavalcare questa 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 strada il dato interessante che oltre un terzo delle stories più visualizzate sono quelle dei brand quindi alle persone piace o piace guardare le storie che sono create e che sono distribuite da dalle marche altro aspetto fondamentale che riguarda la caratteristica le peculiarità del contenuto è quello che riguarda il mondo dei video quali video però ma il video se abbiamo detto che siamo nell'era della verticalità la crescita impetuosa è quella dei video in formato verticale anche in questa slide trovate delle statistiche facebook live totale crescita instagram il tempo medio trascorso a guardare i video aumentato dell'ottanta per cento snap ci sono oltre 7 miliardi di video visualizzati ogni giorno non tende veramente in crescita del resto è sufficiente pensare che il 98 per cento delle persone che dispongono di un dispositivo smartphone di un dispositivo mobile lo guardano in posizione verticale per oltre il 94 per cento del tempo quindi sarebbe ed è un'azione assolutamente che va contro la usabilità la user experience ed utente fornire dei contenuti che non sono pensati specificamente per il mobile da questa osservazione da questo scenario che vi ho detto mobile social intelligenza artificiale convergenti rispetto ad un'unica strategia noi come gruppo di lavoro abbiamo pensato che fosse possibile come dire sperimentare che fosse possibile esplorare questo mondo e abbiamo pensato abbiamo studiato una metodologia di marketing perché pur essendo noi un'azienda che sviluppa tecnologia e quindi abbiamo sviluppato nel tempo questa piattaforma ada è una piattaforma only one quindi integrata per il mobile marketing potenziata soluzioni di intelligenza artificiale in cui dentro c'è veramente un mondo io la chiamo o almeno pensando a me stesso un po il parco giochi per un bimbo perché c'è tutto integrato quello che può servire ad un uomo di marketing e comunicazione per gli sms interattivi al landing page ai video alle storie assistenti virtuali chat bot possibilità di gestire in maniera integrata i social la possibilità di valutare il comportamento delle persone attraverso un sistema di big scoring e sistemi di profilazione la possibilità di gestire campagne facebook all'interno della piattaforma stessa abbiamo associato a questa una metodologia di marketing perché ci siamo resi conto che poi per perseguire l'obiettivo della efficacia del proprio lavoro sia le agenzie che le aziende hanno bisogno di step di passi molto ben definiti nei quali sperimentare e liberare la creatività e il contenuto e la capacità di creare il contenuto quindi abbiamo pensato abbiamo studiato questa metodologia che si compone di sette passi successivi di sette step che vanno dallo studio delle audience quindi dalla customer data management fino ai flussi di conversazione linguaggio naturale in una successione in una sequenza di azioni di come dire iniziative e di passi che portano poi al compimento di una strategia estesa abbiamo unito questi due sistemi quindi la piattaforma da va di pari passo a questa metodologia operativa questa questo metodo di marketing pensato specificamente per l'era del mobile della dei social e dell'intelligenza artificiale delle conversazioni linguaggio naturale fino ad arrivare a pensare a immaginare io che solo lo identifico un po col logotipo della della nostra progettualità quella di come dire pensare a mobile a social intelligenza artificiale non come dei silos come dei 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 media e degli ambienti separati tra di loro ma di metterli in interazione di metterli in interconnessione per offrire alle persone al pubblico delle esperienze multiformato delle esperienze multimodali di interazione con la marca quindi si può passare da una storia sfogliabile che possibile realizzare all'interno della piattaforma poi vi farò vedere un esempio pratico che magari chiarisce un pochino il senso di questa slide ad interazioni con un chat bot che può rinviare ad un video verticali che può rinviare a una landing page o strumenti di marketing automation che consentono di fare quello che avevamo detto in qualche strada precedente questo passaggio da una persona sconosciuta a far diventare un utente abbracciatore della marca a luglio dello scorso anno garner gruppo garner a nell'ambito di quello che è il studio quelli che chiama il magic quadrant per il mobile marketing platform ha assegnato ad adal convergent marketing la una menzione d'onore una menzione d'onore che indica il fatto che questa progettualità in qualche modo piaciuta un pochino con marcelato orgoglio evidenziamo questa cosa perché una volta tanto non siamo affascinati da tutto quello che arriva dal nord america non siamo affascinati da software che sono nati o che nascono in luoghi che sono molto lontani da noi per questa honorable mention per a da e per il convergent marketing è stata assegnata a un siamo gli unici in italia ad averla ricevuta e siamo anche gli unici in europa ad averla ma è stata come dire nel magic quadrant sono rientrate tutte aziende americane o indiane e molte volte con addirittura un round e di di venture capital ora io volevo farvi vedere questo questo caso di successo che l'applicazione di quello che vi ho detto ad una piccola e media attività imprenditoriale in particolare una cantina quindi un produttore vinicolo locale della puglia con un ottimo prodotto ma una piccola realtà esporta all'estero però diciamo una realtà come molte in italia che fa della 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 componente digitale parte del suo piano di comunicazione investendo quello che chiaramente ha possibilità di investire il responsabile commerciale responsabile marketing questa azienda si è approcciata a noi e ci ha prospettato una volontà quella di andare al vinitari del 2019 presentarsi con un aspetto un po innovativo rispetto a quello che fanno gli altri suoi competitori e in modo particolare l'attenzione è finita sulla possibilità di far diventare la bottiglia del vino uno strumento di comunicazione uno strumento che mettesse in relazione la persona quindi chi ha acquistato quel vino con la marca e il modo più semplice per farlo era quello di apporre un quark o da faccio vedere dopo forse c'è un immagine dopo lo vedete in questa immagine di apporre un quark o utilizzare uno strumento uno strumento di opt in tool quindi di invio consensiente per ricevere dell'utente per ricevere delle informazioni di dettaglio e far collegare direttamente la bottiglia di vino ad un chatbot quindi non più un atterraggio ad una landing page ma l'avvio di un percorso di relazione di un percorso di conversazione il linguaggio naturale che aiuti le persone a cercare a trovare il mood per entrare in relazione con l'azienda con il produttore questi erano gli obiettivi che l'azienda si era prefissato il chatbot associato ad ogni bottiglia di vino aveva come obiettivo quello di sviluppare delle conversazioni di linguaggio naturale immaginate quante informazioni è possibile raccogliere sui gusti delle persone facendo dialogare o chiacchierare le persone attraverso un chatbot la possibilità di distribuire link a contenuti multimediali la possibilità di sfruttare questi conversational form quindi formi innovativi la possibilità di diffondere informazioni su vini abbinamenti gastronomici e la possibilità di raccogliere prenotazioni per degustazioni organizzate tutto quanto con un'unica strategia che si basa ancora una volta sulla possibilità di creare esperienze mobile su mobile senza soluzione di continuità mettendo in interconnessione storie sfogliabili chatbot quindi linguaggio conversazioni linguaggio naturale e video verticali oltre landing page workflow di marketing automation e tutto quanto la piattaforma consente di fare questi sono i risultati conseguiti dall'azienda che nel mese relativo alla presentazione la presentazione successiva al vinitaly ha sviluppato oltre 1070 conversazioni con il chatbot che rispondeva ad un numero medio di domande pari a 3,5 con una generazione a tre cifre di lid acquisite rispetto chiaramente agli strumenti che aveva precedentemente adottato e la visualizzazione di contenuti verticali i contenuti di narrazione della marca prepari a 2.282 e 1186 io se riesco ditemi però se questa cosa è possibile magari michele farei vedere pronto pronto ciao antonio dici puri cosa intendevi fare mi sentite fino adesso mi avete sentito sì io ti sentono assolutamente ok la possibilità di far vedere non so se si vede il mio desktop in questo momento questo è il chatbot che è stato realizzato dall'azienda vediamo di non avere problemi di navigazione il chatbot che è una risorsa web raggiungibile con un link distribuibile via whatsapp sui social questa è la faccia del produttore dell'imprenditore che ha voluto entrare in prima persona in gioco e qui si atterra e se è possibile o seguire le saggezio può fare o mettere il nome di uno dei vini della casa considerate che le persone cliccando sul quarkoda arrivavano direttamente a questo tipo di informazioni specifiche sul vino per bacio ad esempio il chatbot dalle informazioni anche in forma vocale rispetto alle caratteristiche alla tracciabilità alle informazioni sul vino porta un link in uscita link che porta una storia sfogliabile realizzabile sempre con la piattaforma quindi un contenuto immersivo che approfondisce l'interazione dell'utente utente sfoglia guarda alla possibilità di compilare un form se interessato a quel prodotto contenuti creabili ne sono in un numero illimitato questa è un'altra storia che riguarda sempre l'azienda connessione sempre interazione tra gli strumenti che non sono mai singoli ma vanno sempre come dire uniti che vanno sempre associati che vanno sempre di pari passo fino alla possibilità chiaramente di sviluppare di creare un'interazione completa ad esempio vuoi acquistare il mio vino restando all'interno del contenuto questa è l'attivazione di un conversational form in maniera molto semplice il chat bot è istruito per rivolgere le domande per generare un lead per quindi alimentare per iniziare ad alimentare la relazione con l'utente queste informazioni vengono raccolte all'interno della piattaforma vengono gestite all'interno di una customer data platform quindi di una piattaforma di gestione delle informazioni degli utenti e adesso è possibile associare workflow di marketing automation invio di sms strumenti di marketing diretto che consentono chiaramente di rafforzare quella relazione al contempo è possibile anche creare dei contenuti verticali io non so se posso lanciare il video se questo va un po in contrasto con forse ieri mi dicevate poi poi provare ma potrebbe andare leggermente a scatti se il video si muove troppo velocemente ok questo è un video verticale realizzato sempre all'interno della piattaforma noi lo chiamiamo un movie telling che non fa altro che e arricchire realizzato sempre all'interno della piattaforma noi lo chiamiamo un video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Michele, io ho completato, nel senso che ho un po' raccontato tutto quello che può essere dietro, che c'è dietro al progetto e dietro la nostra progettualità. Vorrei rimarcare come veramente l'interazione tra questi tre mondi, mobile, social e intelligenza artificiale, oggi è un'opportunità, è un'opportunità concreta. Con il nostro progetto, con ADA, noi serviamo oltre 3.000 piccole e medie attività. Abbiamo un progetto che coinvolge oltre 200 agenzie di comunicazione tra Italia, Spagna, Inghilterra e paesi europei nei quali ci stiamo sviluppando. E pensiamo che questa possa essere un modo nuovo, un modo diverso di approcciare le strategie di marketing digitale, lasciando intatto tutto quello che è il mondo del sito, il mondo dell'e-commerce, ma affiancandosi sempre di più a delle piattaforme. Perché le piattaforme di marketing digitale oggi consentono alle piccole e medie attività, con degli investimenti contenuti, investimenti circoscritti, di arricchire di molto la portata delle loro azioni. Ed è un periodo storico, un periodo verso il quale noi andiamo, questo contingente, anch'io sono d'accordo, non voglio parlare del tema del coronavirus in questo momento, ma di quello che verrà dopo, perché ci sarà una ripartenza, senza dubbio ci sarà una ripartenza, che passerà sempre di più dalla necessità delle marche di comunicare in formato digitale, e che vede due aspetti fondamentali. La necessità per le marche di mostrare capacità nel creare di conversazioni, quindi di creare contenuti, e la necessità che le piccole e medie attività hanno di porre particolare attenzione a cose che a volte sono state trascurate. La creazione, la gestione, il mantenimento nel tempo di una customer base, di una base di informazioni relative agli utenti da nutrire nel tempo, perché se ci pensiamo quello è il vero patrimonio. Nelle situazioni di difficoltà, la possibilità di poter mantenere la relazione con la comunicazione mirata al proprio pubblico è una delle chiavi di lettura per superare le difficoltà. Quindi, in una fase di ripartenza, il cui digitale sarà sicuramente protagonista, e che speriamo possa essere di buon auspicio, porre attenzione alla potenzialità delle piattaforme di marketing digitale, e, come dire, azione buona e concreta e reale. Grazie a tutti.